È strano. Allora, ciao. Ciao. Ero convinto di conoscerla molto bene. È stato bello conoscerti. Ma non la conoscevo per niente. E spreco passare tanto tempo con una persona solo per scoprire che è un'estranea. Aspetta! Che c'è? Non lo so. Che cosa vuoi, Joel? Aspetta, non lo so. Voglio soltanto che aspetti un po'. Va bene. Davvero? Io non sono un'idea, Joel, ma una ragazza incasinata che cerca la sua pace mentale. Non sono perfetta. Non riesco a vedere niente che non mi piace in te. Ma lo vedrai! Ma lo vedrai! Certo, col tempo lo vedrai. E io invece mi annoierò con te e mi sentirò in trappola perché è così che mi succede. Ok. 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 Ok.